A Parigi non si aspetta una dichiarazione di principio, non si aspetta altri punti di riferimento nel futuro, ma si aspetta veramente un accordo, un accordo globale, vincolante e differenziato. Quindi è il nostro sforzo e il nostro obiettivo per la conferenza e anche per essere sicuro che non supereramo più di due gradi nel cambiamento climatico. La conferenza di Parigi Clima 2015 sarà la più grande conferenza diplomatica mai organizzata in Francia. Ci saranno 20.000 rappresentanti e oltre 20.000 persone a partecipare a questo evento. Tutti i paesi membri dell'ONU saranno presenti e aspettiamo fino a 3.000 giornalisti. Quindi la stampa gioca un ruolo molto importante. Abbiamo preparato le autorità francesi, tutta un'organizzazione per facilitare il lavoro dei media a Parigi nel posto della conferenza a Le Bourget e anche prima della conferenza per assicurare un'informazione di qualità per i giornalisti in tutto il mondo. Grazie.